Nonostante si fosse sottoposta all'intervento per la chiusura delle tube, dopo due anni è rimasta di nuovo incinta. Adesso la asla toscana sud-est è stata condannata a risarcire i due genitori protagonisti della vicenda. I fatti risalgono al 2011, quando la donna, in occasione del terzo parto, aveva richiesto di ricorrere alla contraccezione chirurgica per scongiurare una nuova gravidanza che sarebbe stata indesiderata. L'intervento fu eseguito all'ospedale di Grosseto, ma nel 2014 la donna ha dato alla luce la quarta figlia. Adesso, nove anni dopo la nascita della bambina, l'asla toscana sud-est, che era stata citata in giudizio dalla famiglia, è stata condannata dal tribunale Aretino a risarcire la coppia di genitori. La sentenza stabilisce che l'azienda sanitaria dovrà provvedere al mantenimento della figlia, nata dopo la chiusura delle tube, sino al compimento del suo venticinquesimo anno. La famiglia riceverà 450 euro al mese per 135.000 euro complessivi. Secondo il tribunale di Arezzo, che si è pronunciato, essendo Aretina la sede legale dell'asla toscana sud-est, alla paziente rimasta incinta, nonostante l'intervento di sterilizzazione tubarica, non può essere richiesto di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza per evitare il danno conseguente agli oneri del mantenimento del figlio, perché la scelta di interrompere la gravidanza è una scelta personalissima della gestante che involve considerazioni di carattere morale e religioso, non scevra da un notevolissimo carico di sofferenza psicologica. L'asla nel frattempo sta valutando se fare ricorso in appello e chiedere la sospensione dell'esecuzione da 135.000 euro da pagare alla coppia che ha avviato il processo.